Sì, ciao a tutti ragazzi da Studio Camorina, ben ritrovati. Sono qui in questa nave, questo è il loghetto. Sono partite le 3 di notte e l'arrivo è previsto per le 10 e mezza, le 22 e 30 di sera. Mi ricordo i prezzi, ho preso un biglietto per il passeggero più macchina, ho pagato 114 euro. La nave è molto vecchiotta, specchia in pieno gli anni 80, però è vecchiotta ma pulita, è ben organizzata. Mi chiedo rispecchiare. Inoltre, questa è la sala pacifica, dove abbiamo due piscine. Questa è la seconda, mi sembra molto bella. Mi specchia in pieno e non mi resta che darvi un forte abbraccio. Ciao!